Io credo che Leao sia uno dei giocatori più forti della storia del calcio del Milan. Ma io non ho sentito... Che ha detto? Aspetta, che ha detto? Leao... Eh, vabbè, Leao, si può dire che... Ma c'ha avuto 40 palloni d'oro il Milan, no! Aspetta! Io non t'ho detto... Ma me ne devo andare via io! Io ho detto che Leao è uno dei giocatori più forti della storia del calcio del Milan. Che c***o stai dicendo? Hai detto una delle più grandi c***e da quando ti sento... Eh, vabbè, è stata ragazzata! Più grande di questa non l'ha mai detto. Eh, Damiano, fermati in attimo! Ma oh, ma il Milan, no! Eh, quindi... Paresi, Maldini, Cercenco, Gullit... Non so ne... Ma che c***o! Anche io sono uno dei portieri più forti della storia Serie A. Sono il centoventesimo, sono uno dei portieri più forti della storia Serie A. Ma che c***o! Ragazzi, vi invito tutti ad andare sul post, il primo che ha Damiano, e commentare tutti, non capisci un c***o!